La vocazione turistica di Pesaro si arricchisce di un nuovo tassello. Da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo, la città ospiterà per la prima volta la Borsa del Turismo della Terza Età. 12esima edizione organizzata per l'occasione da Confesercenti Pesaro Urbino, Comune di Pesaro e Inside Marque Live per una rassegna che avrà il suo quartier generale all'hotel Baia Flaminia Resort, che sabato ospiterà il meeting, il turismo marchigiano e il post-covid e lunedì il workshop che sarà momento clou di una manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 50 buyer professionali provenienti da tutta Italia, così come da Stati Uniti, Irlanda, Germania e Lettonia. È una manifestazione importantissima che raggiunge oggi la dodicesima edizione. Siamo riusciti a intercettare una bellissima manifestazione che ha girato un po' tutta Italia e che per la prima volta arriva a Pesaro ed è una manifestazione che comunque riguarda un turismo anche se è della terza età ma molto alto, molto qualificato, che sicuramente porterà benefici non solo per Pesaro ma un po' per tutto l'ambito provinciale. È strutturata con una parte di promozione del territorio attraverso educational tour, press tour, quindi visite guidate a Pesaro nell'area di Urbinate e nell'area costiera. Quindi far visitare ai buyer, ospiti e ai giornalisti questo territorio. Poi è un momento anche promo commerciale naturalmente e il workshop che si farà lunedì 28 vedrà 53 buyer provenienti da tutta Italia, di cui solo 7 delle marche perché abbiamo preferito portare gente da fuori nelle marche, 53 buyer con altre 60 operatori seller dell'offerta marchigiana, italiana e anche estera. Penso alla Croazia, alla Slovenia, penso a Malta come esteri e quindi è un momento promo commerciale importante in un momento in cui il turismo comincia a riprendersi e in cui il turismo della terza età, che se pensiamo è stato il più penalizzato dal Covid perché poi gli anziani erano la fascia d'età più colpita per molti versi, oggi ricomincia a camminare con le sue gambe. La terza età oggi è un segmento che riguarda dai 60 anni in su 21 milioni di italiani che hanno tempo a disposizione, qualche risparmio da spendere anche per le vacanze e quindi molto interessante sul piano del turismo.